Un catamarano di 10 metri abbandonato è stato segnalato dalla Capitaneria di Porto nei pressi dell'arenile collocato a sinistra della foce del fiume Picentino, a pochi passi dall'ex villaggio del Sole. Il natante, come attestato anche dagli uomini della Polizia Municipale, si è arenato per ragioni ancora in corso di accertamento e sarà rimosso nelle prossime settimane. Immediata è scattata l'ordinanza da parte del sindaco Lanzara, che ha interdetto ai bagnanti l'area interessata, dando disposizioni per la messa in sicurezza della stessa in attesa della rimozione.